Sulla morte del piccolo Flavio Cistullo, il tredicenne deceduto in un tragico incidente lo scorso 18 dicembre sulla statale 16 adriatica, è intervenuta Maria Ellen Benedetti, presidente dell'associazione Asperger Abruzzo. Abbiamo preferito aspettare che passassero le feste per rialzare l'attenzione sullo spinoso argomento dei viaggi della speranza per le terapie fuori provincia e fuori regione, che troppi bambini sono costretti a fare e per cui Asperger Abruzzo ha tanto lottato e continua a lottare, afferma Maria Ellen Benedetti. Lo scorso 18 dicembre una famiglia di Termoli, costretta ai viaggi della speranza, ha avuto un incidente di ritorno dalle terapie in Abruzzo. In questo incidente ha perso la vita il piccolo Flavio. La morte di Flavio, evidenza dal presidente dell'associazione Asperger Abruzzo, non può essere dimenticata, non può essere vana e non può passare come un fatale incidente stradale quale non è. Ci sentiamo di affermare, senza esagerazioni, che la morte di Flavio è un omicidio sanitario. La famiglia di Flavio ha scelto di curare il proprio figlio in Abruzzo, ha scelto di farlo perché non si è sentita degnamente presa in carico in Molise e come darle torto? Con il cuore gonfio di dolore, conclude la presidente dell'associazione, mandiamo alla famiglia del piccolo Flavio delle nostre più sentite condoglianze. Alle famiglie molisane offriamo il nostro aiuto affinché ottengano le terapie in prossimità del luogo di residenza e con le più avanzate evidenze scientifiche.